Era latitante dal 2011 l'Algerino catturato ieri nei pressi di Palermo dalla Polizia di Stato della sezione Polizia Stradale di Buonfornello. Il 43enne è ritenuto essere parte del sodalizio criminale dedito al traffico di droga nelle province di Raguse e Catania. Era ricercato dalla notte del 29 gennaio 2011 data dell'operazione Rewind, che ha visto la partecipazione di oltre 150 uomini della Polizia di Stato per la cattura di quasi 40 soggetti presenti in tutta Italia. Dalle province di Catania, Palermo e Agrigento fino a Napoli, Parma, Reggio Emilia, Milano, Prato, Trapani e Siracusa. Tutti erano accusati di far parte di un'associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. E l'Algerino, detto Karim, era uno dei corrieri della droga che si spostava tra le varie province siciliane con base stabile in provincia di Raguse ed in particolar modo a Vittoria. Grazie ai sofisticati sistemi di indagine della Polizia di Stato, nonostante l'uomo abbia fornito generalità false, gli agenti della sezione di Polizia Stradale hanno scoperto dal riscontro con le impronte digitali che davanti a loro vi fosse il latitante Karim. Condotto presso gli uffici della Polizia di Stato, il latitante ha ammezzo di essersi allontanato da Ragusa dal 2011, ovvero da quando era fuggito rendendosi irreperibile conoscendo ormai di essere ricercato.